Quello che mi dispiace è soprattutto per il gruppo, non per me, perché poteva oggi essere una bellissima giornata, una vittoria. A fine partita... A fine partita... A fine partita vedere Leo con le stampelle è stato un sentimento veramente duro, perché c'è veramente tantissimo sacrificio dietro le quinte. Scusate le lacrime, forse uno sfogo che viene da dentro, ma mi dispiace per Leo, perché è uno dei ragazzi con i quali ho vissuto tantissimi anni insieme. Vederlo con le stampelle, così deluso, è una cosa che non si merita, ma non so adesso quale sarà l'esito del suo infortunio. Mi auguro veramente che non sia così grave, se lo è, sono convinto che farà di tutto e sarà con noi in Giappone. E ci aiuterà a andare a cercare questo sogno che, credetemi, non mi importa niente cosa ci sarà scritto da oggi fino al Mondiale, non mi importa se il mondo intero non crede in noi, credetemi. Io e tutti i ragazzi crediamo in noi stessi, andiamo a cercare questo sogno, faremo di tutto per raggiungere questo sogno qui. Quindi mi dispiace soprattutto queste cose qui, quando magari un ragazzo, un compagno, un amico si fa male. Sono momenti duri, al di là anche della partita che ovviamente ha contribuito a questa sensazione un po' negativa.